Cosmo Palumbo, nuovo arrivo in casa Sanremese, innanzitutto come stanno andando questi primi giorni in ritiro con i tuoi nuovi compagni? Sì, bene dai, ci stiamo allenando tanto, ormai sono dieci giorni che siamo in ritiro e questi giorni ci serviranno per conoscerci meglio e per imparare un pochettino quello che il mister vuole da noi in campo. Hai detto la parola mister, quindi mi collego, cosa ti ha convinto del progetto di mister Rolfo, tanto da accettare di essere qui? Ma io col mister mi sono sentito telefonicamente durante l'estate, mi ha un pochettino detto il progetto che c'era qui a Sanremo e ho preferito accettare, come ho già detto in passato, un progetto solido come questo qui, anziché aspettare qualcosa in lega pro che non aveva magari basi solide come queste. Ti hanno parlato un po' della città, dei tifosi, dello stadio, di quello che ti aspetta, conosci o... Sì, ho avuto modo pure di chiacchierare con alcuni miei ex compagni di squadra che ho ritrovato qui, tipo Fiuzzi, e mi ha detto che è una città dove si vive bene, che il calcio è molto seguito e quindi sarà un piacere giocare qui a Sanremo. In conclusione un tuo messaggio per i tifosi? Sicuramente possiamo dire che ci impegneremo al massimo per fare qualcosa di buono in questo campionato. Grazie a tutti.